Al nuovo assessore all'urbanistica, edilizia pubblica e privata, architetto Silvano Armellini, chiediamo per prima cosa di tracciare un suo breve curriculum e quindi poi di indicare le linee generali che intende perseguire in questo suo gravoso incarico. Buonasera a tutti, sono Silvano Armellini e sono il nuovo assessore all'urbanistica del Comune di Albino. Sono architetto, ho 36 anni, sono un funzionario di una pubblica amministrazione, sono responsabile di un ufficio tecnico comunale. Da qualche mese abbiamo avviato insieme ad altri amici questa nuova grandissima avventura di amministrare il Comune di Albino e così come gli altri sono pieno di entusiasmo, pieno di energia rispetto all'incarico che ci troviamo ad affrontare. Per la verità arriviamo a gestire il Comune di Albino in un momento di profonda crisi, profonda crisi economica che riguarda tutti i settori, dall'industria al commercio e riguarda nello specifico anche in modo profondo tutta l'attività che ruota intorno al territorio, intorno all'edilizia. Infatti moltissime delle imprese che fino a un paio d'anni fa stavano solcando acque di grandi attività oggi sono in crisi e alcuni si trovano anche costretti a licenziare personale se non addirittura a chiudere. Purtroppo Albino in particolare rispetto ad altri territori della Val Seriana soffre a mio giudizio un po' di più questa crisi perché ha vissuto negli ultimi anni un periodo di vacche grasse a mio giudizio eccessivo. Si è fatta un po' una scorpacciata, si è fatta un po' un'indigestione di metri cubi e l'attività di lizza che si poteva sviluppare nel giro di un ventennio ce la siamo giocata in 7-8 anni. Purtroppo dopo l'indigestione si deve andare avanti un po' di tempo a riso in bianco e noi purtroppo stiamo affrontando a partire dall'anno scorso il periodo per alcuni drammatici di dieta di dieta anche economica tant'è che anche le entrate per l'amministrazione comunale derivate dagli oneri di urbanizzazione stanno vivendo una crisi profonda che si riflette poi sui servizi al cittadino, sulle opere di urbanizzazione. infatti stiamo davvero avendo alcuni problemi a volte anche per garantire i servizi essenziali. Come uscire un po' da questa situazione? Dobbiamo guardare oltre questo periodo e cercare di ribaltare un po' il punto di vista rispetto a prima. Prima si è governato sulla logica della quantità puntando a massimizzare i metri cubi puntando a spingere al massimo sull'acceleratore della quantità e i risultati sono nefasti perché abbiamo avuto edifici terribili alcuni veramente considerati da tutti degli scempi edilizi e spesso poi che hanno creato difficoltà gli stessi operatori per essere utilizzati. Bisogna invertire la rotta e cominciare a parlare di qualità della trasformazione edilizia pensando a quello di cui la gente ha effettivamente bisogno. Un'ampia intervista all'architetto Armellini verrà proposta dal nostro emittente televisiva nel corso del settimanale il venerdì. Da Albino, Linea allo studio.